Il reddito di cittadinanza è culturalmente sbagliato. Noi su questo andiamo in Cassazione a presentare una richiesta di un referendum abrogativo perché non vogliamo mettere in difficoltà il governo. Allora non andiamo in aula a portare una proposta di legge che chiuda il reddito di cittadinanza sapendo benissimo che questa magari anche passa ma creerebbe una frattura insanabile nella maggioranza di governo. Perché siamo responsabili, invece, cosa che non è il Movimento 5 Stelle che sta facendo tutto questo intorno all'autorizzazione data al sindaco di Roma di poter realizzare finalmente un termo valorizzatore.